L'Italia fa qualche passo in avanti per diventare un paese più tecnologico, ma il terreno da recuperare è vasto. Nel 2012 resta stabile la quota delle famiglie in possesso di un personal computer e di un accesso a internet, ormai ben al di sopra del 50%, mentre la percentuale delle connessioni veloci, ovvero attraverso banda larga pur in crescita, non riesce ancora a diventare maggioranza. Insomma, in Italia il web fa molta fatica a entrare nelle case rispetto a quanto accade in Europa. A fare il punto sul rapporto tra italiani e tecnologie è l'Istat, che se da una parte sancisce il ritardo su internet nel confronto con altri paesi, dall'altra conferma la passione per il cellulare, ormai presente nel 93% delle famiglie. Seguono a distanza il lettore DVD, il PC, l'accesso al web, l'antenna parabolica e lo smartphone.